Siamo con Andrea Valboni, uno dei manager per la pubblica amministrazione che conosco da più tempo e che sicuramente ha un'attenzione dedicata e anche un osservatorio di eccellenza su questo mondo. Il blog di riferimento è mclips.it, un blog che ormai ha quasi due anni aperto da Microsoft per entrare nel mondo della blogosfera italiana. Ecco, dall'alto del tuo osservatorio, quindi di player industriale dell'ICT, come vedete voi Microsoft e come vedi tu come Andrea Valboni, la pubblica amministrazione italiana, lo stato di digitalizzazione del paese e se possibile anche come prevedi anche da un punto di vista culturale l'evoluzione di status di cittadino digitale sia dal punto di vista dei doveri che dei diritti? Allora, la prima domanda è abbastanza semplice da affrontare. La digitalizzazione dell'APA è a mio avviso ancora lontana da aver raggiunto degli obiettivi tangibili. Credo ci siano degli ampi margini di miglioramento, di incremento della digitalizzazione dei processi da un doppio punto di vista, dal punto di vista del profilo dell'efficienza, diciamo così, dei servizi, quindi della macchina interna, delle procedure di back office, eccetera, e dall'altra parte nel proprio senso di digitalizzazione, quindi di smaterializzazione, di dematerializzazione della pubblica amministrazione. di carta ancora ne circola tanta, eccetera. È anche vero però che abbiamo sentito una forte volontà di procedere in tutti i settori, in qualunque regione abbia visitato, c'è una forte volontà di procedere verso la realizzazione di questi processi digitali, scontrandosi ovviamente con un problema di fondo che è quello delle risorse, quindi esiste obiettivamente un problema di risorse della pubblica amministrazione a dedicare a questi progetti, che in alcuni casi questa mancanza di risorse rappresenta un vero e proprio freno. È anche vero però, e l'abbiamo potuto toccare con mano, che in alcuni casi non si tratta tanto di fare investimenti addizionali, perché si riesce anche con cose che già la pubblica amministrazione ha, a cambiare fondamentalmente il modo con cui certi processi vengono fatti. Spesso e volentieri non è tanto un investimento in information technology, per lo che serve, è un investimento sulla cultura della persona e nel far comprendere come sia necessario cambiare i processi, adeguare il modo di comportarsi perché effettivamente si possa arrivare a una digitalizzazione end-to-end. Questa era, diciamo, la prima parte. La seconda parte, quali sono le prospettive come cittadino digitale? Vedo, nel mio caso, adesso mi guardo come cittadino, quindi come persona che abita in una città come Milano, molte cose sono cambiate, tante cose si riescono a fare attraverso la rete, attraverso il sito, attraverso i call center, eccetera. Personalmente io non metto piede in un'anagrafe da almeno tre anni, quindi l'ultima volta che sono stato, perché purtroppo ho dovuto rifare la carta identità avendomi rubato il portafoglio, essendomi stato rubato il portafoglio. Però, e quindi da questo punto di vista vedo un grosso beneficio, si potrebbe migliorare, faccio un esempio pratico. La regione mi comunica quando devo rinnovare il bollo di un mio veicolo, la moto per esempio, come è successo recentemente. Mi arriva per carta. Sarebbe bello che mi arrivasse una mail. Quindi c'è ancora qualcosa da fare, secondo me, proprio per andare verso una digitalizzazione spinta, ma credo che le cose siano fattibili. Ripeto, è più un problema di cambiamento di modalità operativa che non di tecnologia. L'altra domanda che volevo farti è il perché siete qui. Ovviamente conoscendoci, io so che Microsoft sta enfatizzando una strambata che secondo me era già in atto da tempo. Quella di contaminarsi con il mondo del web sociale. Voi fate molti incontri, spesso anche con i blogger, ultimamente il fatto stesso che avete aperto M-Eclipse in modalità dialogica. Cioè questa contaminazione che fra l'altro vi porta qui anche nei tavoli di lavoro ad incontrarvi anche con il mondo open source, con il mondo un po' più talebano, che vi vede voi, famosa parola Evil, no? Ecco, ci racconti com'è maturato questa volontà, per noi molto positiva, di mischiarsi con noi. È stato un percorso lungo, è partito almeno otto anni fa, quando abbiamo cominciato a capire che il mondo era un po' diverso da come ce l'avamo immaginati fino a qualche momento prima. E questo ha aperto una fase di riflessione molto profonda all'interno di Microsoft, sia dal punto di vista di offerta e quindi di rapporto anche col mondo open source e di conseguenza poi nel tempo anche nel modo di comunicare con la comunità, di comunicare attraverso la rete, quindi attraverso i blog, attraverso il social network, eccetera. Se c'è una cosa che ha sempre caratterizzato un po' il modo di essere di Microsoft è quello di non schierarsi da una parte o dall'altra in modo, diciamo, ideologico. Quindi quando abbiamo capito che open source stava diventando una realtà tangibile, a differenza di altre aziende che hanno virato o strambato, per usare l'espressione marinara, verso l'open source, Microsoft ha avuto una reazione all'inizio forse anche un po' scomposta, dico io. Poi piano piano ha cominciato a porsi il problema di capire che diavolo stava succedendo. Ecco, io credo che la grossa differenza sia in questo. Siamo un'azienda che vuol capire, però una volta ha capito, cerca diciamo di mantenere una determinata rotta e di consolidare determinate posizioni. Certi cambiamenti che sono avvenuti nel corso degli ultimi cinque anni stanno iniziando a far parte del DNA di questa azienda che è sempre in profondo cambiamento. Cioè Microsoft è un'azienda che ha assorbiti molti di cambiamenti nei 25 anni di storia e più. E secondo me siamo di fronte a un grosso cambiamento interno, sia dal punto di vista di come rapportarsi con la socialità, con il mondo della pubblica amministrazione che comunque cambia, con i social network eccetera, ma stiamo cambiando anche dal punto di vista dell'offering, se vuoi. Tutto quello che sta dietro al cloud computing e all'utilizzo del software sulla base dell'uso e non sulla base di licenze, credo sia il forse più grosso cambiamento che stiamo affrontando. Ecco, volevo dirti un'altra cosa però. Se noi avevamo un rapporto di tipo fornitore e acquirente nei nostri ruoli, negli ultimi anni è cambiato perché tu scrivi sul blog DM Eclipse, io scrivo sul mio, io commento il tuo, tu commenti il mio, eccetera. Quindi di fatto abbiamo lo status di abitanti della rete, quello che noi qui dentro in un barcamp chiaramente conosciamo come dinamica, come paradigma di riferimento. Ecco, questo mondo, il mondo degli abitanti della rete, cosa può fare per cambiare la pubblica amministrazione? Beh, il mondo degli abitanti della rete può, secondo me, dare degli esempi. può attraverso l'uso di determinati strumenti, modalità di interazione, la creazione anche di consensi intorno a determinate idee proposte, portare a riflettere alla pubblica amministrazione su quelle che sono le scelte fatte e sugli indirizzi che devono essere presi. Sempre di più le pubbliche amministrazioni stanno guardando, il politico stesso sta guardando all'utilizzo di internet, all'utilizzo di social network come un elemento importante, come un indicatore importante di quelle che sono le correttezze o meno delle proprie scelte. Poi alcuni lo fanno, diciamo così, sulla base dell'imitazione di casi famosi come Obama, eccetera, eccetera, e non si renda conto che comunque dietro c'è una volontà, dietro a certe operazioni c'è una volontà di voler capire e di voler utilizzare il mezzo e il social network non tanto per influenzare, ma proprio per capire quali sono gli indicatori che arrivano dal popolo della rete, perché questo effettivamente apre, diciamo così, una fase di democraticità all'interno della rete nel rapporto proprio tra il cittadino, tra la persona e la pubblica amministrazione e quindi chi governa la cosa pubblica di tipo del tutto nuovo, cioè quando, lo sappiamo benissimo noi, quando ti esponi alla rete il confronto è molto più aperto, devi sapere accettare le critiche, devi sapere confrontarti con punti di vista diversi, però ti arrivano anche delle forti indicazioni dalle persone che ti stanno intorno, capisci molto velocemente se effettivamente stai andando nella direzione giusta oppure no, quindi secondo me in questo il popolo della rete può dare un contributo ai politici, un contributo a chi governa la cosa pubblica, agli amministratori, nel cercare di far capire quanto sia importante questo tipo di confronto, l'utilizzo anche di certi strumenti, una modalità diciamo di confronto continuo che è impegnativo, sappiamo che stare sulla rete è un impegno, è una fatica, cioè non è una cosa che si fa purtroppo nei dettagli di tempo, diventa far parte del tuo mestiere, alcuni lo fanno consapevolmente e cominciano a farlo e credo in questo si possa rappresentare un elemento di stimolo. Andrea ti ringrazio per il contributo e anche per il contributo che stai dando in sala sui tavoli di lavoro, grazie ancora.